Buongiorno, riprendiamo i lavori, sconteremo due relazioni, poi ci sarà una pausa per il caffè alle 11, poi la relazione della professoressa Capuzzo e quindi probabilmente se le previsioni sono corrette e giuste ci sarà il modo, verso un quarto a mezzogiorno, di scendere nella sala Luzzatti in maniera che le persone che desiderano, posso vedere alcuni scimevi che sono stati ordinati grazie a un'iniziativa del Cancelliere a merito al Dottor Franchini a quale noi tutti dobbiamo molto, anche per l'archivio Luzzatti, anche per l'ordinamento che a suo tempo è stato fatto e per la collana che lui ha con il professor Mazzarolli sostenuto e per il professor Piero, del miglior ci parlerà del Veneto e la guerra al confine orientale, se ha bisogno della luce possiamo trasferire questo testo. Grazie. Il tema che mi è stato affidato può essere ed è stato effettivamente svolto seguendo strade in quanto diverse e a loro volta sono state scelte in base alle concezioni differenti della storia militare in generale e in particolare di quella di una regione. La storia militare regionale, così come ogni altra storia militare locale, è a me in causa un intreccio di interazioni, spesso di carattere strutturale, tra il centro e la periferia, tra le istituzioni militari e politiche e la società civile. Una trama la cui razio, come sottolineava alla fine dell'Ottocento Francesco Saverio Nitti in uno studio sulla distribuzione delle forze armate sul territorio italiano, è, cito, determinata dalla politica e dalle necessità della difesa. E quindi alimenta un rapporto palesemente sbilanciato a favore delle istanze statali. Di conseguenza, se ci si colloca non sul terreno di incontro e ovviamente anche di scontro tra il centro e la periferia, ma su posizioni del privilegino, quest'ultimo polo dialettico, si corre il rischio, tipico della storia, non soltanto militare, che si usa a definire minore, di raccontare le vicende regionali di una chiave non di rado vittimistica, di cui un lessico impegnato su parole come tributo, peso, servitù, sacrificio. In ogni caso subalterna. Si parla se e quando la periferia si riconosca nelle scelte prese a livello nazionale, ma nello stesso tempo si preoccupi di far risaltare la propria specificità di apporto, di contributo e di conseguenza si rivendica una parte più o meno brillante recitata in una pièce di cui copione è stato scritto da altri. Ma è anche vero che si ruolano rischi ancora maggiori qualora si rinunci a una prospettiva che parta dalla regione stessa. In quest'ultimo caso, la regione è infatti giudicata degna di essere presa in considerazione unicamente in quanto teatro, attuale o virtuale di guerra, e quindi in quanto territorio, topografia, scenario, oppure nella visione in cui garantisce alle forze armate dello Stato un gettito di uomini, offre, come si scriveva nelle relazioni sulle leve militari redate tra 8 e 900 dagli uffici del Ministero Italiano della Guerra, un certo rendimento. Si appoglia questa visione centralistica della storia regionale, si accoppia anche quella concezione tradizionale della storia militare che quasi mezzo secolo fa Peter Perth presentò nei termini di una descriptive history centering on leading figures, campaigns and the climatic battles, si finisce per ottenere un risultato quanto mai paradossale nel caso del Veneto. Una regione senza dubbio citatissima negli anali della storia militare italiana ed europea, in ragione dei numerosi e spesso decisivi conflitti che ha ospitato soprattutto tra la fine del Settecento e la Prima Guerra Mondiale compresa, e quindi in questa ottica fonte inesauribile di studi e ricerche di memoria e di analisi, ma nello stesso tempo allungo priva di una storia militare e regionale degna di questo nome, che tenga conto cioè, oltre che della presenza di truppe e degli eventi bellici avvenuti nel suo territorio, anche delle strutture sociali e culturali, economiche e ideologiche presenti in loco e dei loro rapporti dialettici con la guerra e con i militari. L'inclinazione a favore di una grande, tra virgolette, storia militare e di conseguenza la propensione a considerare il Veneto soltanto o quasi un campo di battaglia sono state a lungo talmente forti che ancora nel 1968 fu respinta, tra l'altro nell'ambito di un convegno regionale veneto dedicato alla Prima Guerra Mondiale, il primo a mia notizia che intendesse approfondire questo tema, fu respinta, dicevo, l'idea di esaminare le caratteristiche peculiari della regione, nella convinzione che, cito, allo stato attuale degli studi i problemi politico-sociali del Veneto, appaiono assorbiti da quelli comuni a tutte le regioni e le province d'Italia, fin nella citazione. Che non esistesse quindi un contesto specifico Veneto, ma tutto al più delle varianti locali di una situazione nazionale. Una tesi che risulta affatto imbarazzante alla luce di una serie di fenomeni della Grande Guerra che di fatto riguardarono soltanto il Veneto, dai 40.000 profumi del 1916 al mezzo milione del 1917, dall'occupazione austriaca del 1917-18 dei territori a via del Piave, all'estensione delle zone di guerra con tutte le conseguenze sui rapporti tra militari e popolazione locale, eccetera, su buona parte della regione. Che poi, più in generale, un contesto specifico socio-politico-economico non solo esistesse, ma che fosse anche contraddistinto da una serie di torsioni contraddittorie, soprattutto in ambito cattolico, lo doveva dimostrare una quindicina d'anni più tardi Emilia Franzina in un contributo appasso nel fondamentale volume che la collezione della storia d'Italia relativa alle regioni dell'unità ad oggi dedicò il Veneto. Nel quarto e ultimo paragrafo del saggio tra 8 e 900, un paragrafo intitolato Il Veneto in armi, Franzina ricostruì con molta finezza, nasce dai studi di Silvio Ranaro e di Mario Sneghi, gli intrecci tra economia e politica, tra ideologia e società, che connotavano il caso Veneto negli anni prevellici e in quelli della Grande Guerra. Peccato tuttavia che il Veneto in armi rimanesse a ben vedere una metafora e che quindi rimanesse estraneo al testo, tra gli altri, il tema, certamente non secondario, della mobilitazione dei Veneti durante la Prima Guerra Mondiale. Quando due anni più tardi Geronimo Arnaldi e Mario Pastore Stocchi, i direttori della storia della cultura veneta affidarono, affermato storico militare, Lucio Ceva, il compito di affrontare il tema di Veneto e Italia di fronte alla Grande Guerra, memorialisti e letteratura di guerra, il risultato fu, anche in questo caso, un saggio assai stimolante e suggestivo, ma che, come riconosceva il suo autore, raccoglieva quasi esclusivamente le testimonianze dei non-Veneti, in particolare dei brani nei quali, in ogni caso, cito, la Venetità era di norma implicita, nel senso che se saranno nominati il cielo, gli alberi, la terra, l'acqua, la notte, il giorno, il caldo e il freddo, essi saranno per forza Veneti, dato che dal Veneto la guerra non uscì. E naturalmente anche sentimenti e ragioni saranno sotto una costante influenza dell'ambiente veneto. Fine della citazione. Quanto all'eventuale correlazione tra quello che Ceva chiamava il compendio di notizie e soldi economiche regionali, offerto da alcune pagine prima, aveva affrontato in maniera necessariamente custodia i temi della popolazione, dell'immigrazione, della miseria contadina e dell'avvio e dell'industrializzazione. E, cito ancora, si era il fatto concetto di venetità, Ceva se la cavava affidandolo al lettore, il quale era invitato, se lo desidera, a correllare da sé, in citazione, proiettando su questo sfondo di partenza quant'altro cercheremo di offrirgli. Fine della citazione. Di sintesi, il Veneto rimaneva uno sfondo, mentre la letteratura di guerra rinviava a militari non veneti. Eppure, pochi anni prima, era stata lanciata una prima passerella che si era proposta di superare il gap tra il Veneto e i militari. Nel 1983, l'anno stesso in cui, tra l'altro, appareva un interessante contributo di storia militare regionale di tipo tradizionale destinata a una certa fortuna, le battaglie della grande guerra sulle prealbi venete di Gianni Piero Pan, Mariano de Peron e Franco Brunello, presentai in occasione di un convegno di studi otto novecenteschi una relazione su il Veneto militare della nazione all'Italia e la prima guerra mondiale, che pochi anni più tardi, nel 1990, fu ripresa e ampliata, in occasione di un convegno di studi sul generale Valdissera e il Veneto militare, un intervento intitolato «Il Veneto militare dal 1866 al 1918, problemi e prospettive in ricerca», il intervento nel quale era, come si ricava dal titolo, aveva preso in considerazione anche la grande guerra. Dal mio intervento del 1983 aveva tenuto conto l'Alaro, che ne aveva ripreso alcuni spunti nel volume dedicato al Veneto in contributo intitolato «Dopo il 1866, una regione in patria», insistendo in particolare sul difficile rapporto dei Veneti con la carriera delle arve. Ma sarebbe stato necessario attendere Marco Mondini, autore una dozzina di anni fa di un volume dedicato al Veneto in armi, tra mito della nazione e piccola patria, 1866-1918, per vedere sviluppato in maniera approfondita e sistematica il tema del Veneto militare in questo arco cronologico. Mondini rimetteva a fuoco, tra l'altro, un aspetto ufficiale della società civile di notevole interesse per le sue implicazioni. Si occupò matrimoni e patrimoni, ricerca dell'integrazione con la società civile e l'integrazione possibile i gentiluomini in uniforme tra circoli e salotti. In questa serie è mia intenzione lasciare perdere le battaglie, ovviamente, e richiamare invece alcuni aspetti dei problemi strutturali del Veneto militare durante la Grande Guerra. Aspetti e problemi di quali non hanno avvenuto conto da sé i più importanti dei studi locali a Passi, intitutati da temperi ideologico e heuristica tra le due guerre, con in particolare monografie dedicate da Giuseppe dei Mori a Vicenza e da Guido Solito a Padova, ma neppure, salvo qualche eccezione, i contributi dati alle stampe negli ultimi decenni. Va sottoneato in primo luogo che lungo l'età liberale il dispositivo militare dell'Italia ha puntato soprattutto contro la Francia. L'adesione di Roma all'Alleanza tra la Germania e l'Alfreugheria non fece altro che consolidare una linea di tendenza emessa chiaramente dopo l'accaduto di Napoleone III, ribadita tra l'altro dalle vicende della Costituzione del Corpo degli Alpini, un corpo che soltanto in un secondo tempo piantò radici anche nel Veneto, in acqua appunto per la difesa delle Alpi occidentali. Si deve ancora sottolineare che nell'età liberale la strategia militare italiana fu al di là di certe dichiarazioni di intenti e di scelte infelici come le avventure coloniali fondamentalmente difensiva. Un scenario condiviso dalla maggior parte dei capi dei metrapansi militari, ivi compreso lo stesso Garibaldi, prendeva in caso di guerra contro una potenza europea che la battaglia decisiva avrebbe avuto luogo nella pianura padana. L'opzione a favore della difesa e la priorità accordata al rafforzamento della frontiera occidentale del Regno d'Italia fecero sì che la tutela dei confini orientali fosse affidata a linee di schieramento più o meno arretrate. Fino al 1885 la linea principale di resistenza fu collocata sull'Adige, appoggiandola al quadrilatero, in particolar modo a Verona, e al mare, vale a dire a Venezia. In altre parole il Veneto era escluso da una difesa vera e propria. Dal 1885 e 1929 la prima linea di difesa fu spostata nei piani dello Stato Maggiore dell'Esercito, come lo sarebbe stata nei fatti nel 1917-18 sul Piave. Soltanto alla vigilia della Grande Guerra fu stemata a difesa anche la linea del tagliamento, ma principalmente tramite uno spostamento di truppe. Ciò risulta tra l'altro che la densità militare nel caso del Veneto, sia le consideri nel rapporto tra militare e popolazione, sia le consideri nel rapporto tra militare e territorio, fu sempre inferiore, salvo questi ultimi anni a vigilia e la guerra di quella nazionale, perché la concentrazione era Piemonte, Liguria, Lazio, l'area latamente tirrenica. Di conseguenza a lungo il Veneto fu considerata una barca di confine destinata ad essere abbandonata, se non in topo, quantomeno in parte al nemico. Inoltre quando, come accadde nel 1885, quel primo capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nasce appunto in questi anni in conseguenza della conclusione della triplice, il generale Enrico Cosenz, che poi trent'anni più tardi nel 1915 con il suo successore Luigi Cadorna, quando appunto fu abbozzato un piano di attacco contro l'Austria-Ungheria e si ritenne che un'offessiva di tipo napoleonico potesse essere condotta in direzione di Ljubljana e di Denna, non ci si preoccupò più che tanto delle controoffessive del nemico. Come testimonieranno nel 1916 la spedizione punitiva austriaca, arrestata con molta fatica sulla tipiana di Asiago e nel 1917 lo sfondamento del fronte iniziato a Caporetto. Il comando italiano si guardò bene dall'organizzare una solida difesa in profondità. Una scelta dettata soprattutto dal culto di quello che il generale Andrino Di Giorgio chiamò il pregiudizio territoriale. Alla dire la direttiva che fosse necessaria conservare a tutti i costi dei lembi del sacro suono patrio strappati al nemico. Di Giorgio, risposta a un quesito della commissione d'inchiesta sul Caporetto, che questo pregiudizio territoriale, cito, tenne si fattamente schiave elementi che pur di coprire pochi chilometri di territorio si tenevano salienti e assurdi e si subivano situazioni tattiche e mostruose, vi si inauguravano interi reggimenti, intere brigate, intere divisioni, si viveva nel rischio di subire da un momento all'altro dove il nemico avesse saputo profitarne, come accade appunto a Caporetto, gravi rovesci di portata incalcolabile. C'evo il pregiudizio territoriale ma anche dal fatto che non si poteva contare per i motivi che abbiamo visto e nonostante dei sforzi compiuti nel decennio precedente allo scoppio della guerra, ma soprattutto sul fronte alpino, su una linea di valide fortificazioni difensive permanenti nelle retrovie del fronte. E così quando cedete la prima linea cedete tutto lo schieramento, sia nel 16, lezione appresa e al dettaglio del 17. leggevo poco fa una piccola mostra degli appunti anonimi, di cui sarebbe molto interessante scoprire l'autore, che andavano anch'esse in stessa direzione, solo che la critica era era su un piano ancora più moderno, se vogliamo, di quello di Antonino Di Giorgio, diceva cioè che la preoccupazione del comando generale di Cadorna era quella dei bollettini, i bollettini disastrosi come avevano appena sentito. Dunque, in conclusione, il Veneto fu una periferia poco felicemente integrata nel sistema militare italiano. Questa torsione, il passaggio dalla difesa, la difesa all'attacco, non fu assolutamente metabolizzata dal comando generale. Cioè fu una periferia poco felicemente integrata al sistema militare italiano, oltre che sotto il profilo territoriale, anche per certi aspetti da un punto di vista sociale. La regione, che allora comprendeva oltre al Veneto vero e proprio, anche la provincia di Udine, e che ospitava una popolazione pari circa al 10% di quella nazionale, conquistò, si fa per dire, tra gli ufficiali e gli ufficiali registrati dalle relazioni sulle leve di terra tenute durante la Grande Guerra, una quota parte di poco superiore al 6%. Quasi la metà di quello che sarebbe aspettata, diciamo, fosse stato il suo contributo proporzionale. Chi era, tra l'altro, questo 6%, la percentuale registrata dai Veneti su questo fronte, cioè ufficiali, allievi ufficiali registrati in occasione delle leve, che si riscontra nel corso di tutta l'età liberale. La guerra non cambia nulla sotto questo profilo e si rimane in una situazione difficitaria, però. Ancora più deludente, almeno a prima vista, il comportamento della borghesia provvisoriamente in armi, vale a dire l'ufficialità di complemento. Abbiamo dei dati relativi ai corsi per gli allievi ufficiali di complemento dell'arma di infanteria tenuti negli anni 1915-16, corsi che furono frequentati su domanda degli interessati. In questi corsi il Veneto offrì un contributo inferiore di quasi il 40% alla media nazionale, calcolata in relazione al numero degli abitanti, e anche occupare l'ultimo posto nella classifica interregionale. Tuttavia, era sottolineato che in questo caso, così come anche nel precedente, le statistiche rischiano di condurre fuori strada. In particolare, il tentativo mio e la mia scena di lanare o di assegnare una valenza politica alla deludente percentuale registrata dai Veneti di Pisa appare quantomeno azzardato, se si esaminano con attenzione i criteri che precedettero quantomeno fino alla svolta del 1917, quando fu deciso di reclutare gli ufficiali soprattutto tramite corsi tenuti presso i corpi al fronte, alla selezione degli ufficiali di complemento. Al primo corso per allievi ufficiali di complemento di infanteria furono ammessi coloro che erano in possesso della licenza di istituto di secondo grado tra studenti universitariosi. Mentre a partire dal secondo corso, che fu indetto nell'ottobre del 1915, si assentarono anche coloro che potevano presentare un certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico. Questa selezione basata principalmente sui titoli di studio penalizzò in modo particolare il Veneto, la regione che al cessimento del 1911 aveva denunciato il più basso tasso di scolarità di tutta l'Italia nella fascia d'età tra i 15 e i 21 anni. Soltanto il 5,3% dei maschi appartenenti a queste classi di età erano studenti, mentre la media nazionale era dell'8,1%. Un handicap che certamente aveva pesato anche sulle vocazioni degli ufficiali di carriera. Tuttavia, se si tiene conto del rapporto interconso nel Veneto tra gli allievi ufficiali di complemento e gli studenti coetanei, l'apparente e clamorosa inferiorità militare della borghesia veneta finisce per ovversiarsi in una sia pure risicata superiorità, tra virgolette, cioè il 9% contro l'8,8% della media nazionale. E' una superiorità che trova, se si vuole un'ulteriore conferma, nella quota a parte, il 6,6% raggiunta dal Veneto su totale degli ufficiali caduti nel corso del conflitto. La situale, anche in questo caso, di un paio di decimali più elevata rispetto a quella che è stata suggerita dai dati parziali in presenza e richiamati a proposito degli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento. Nello stesso tempo aveva ricordato che mentre nell'esercito italiano considerato nel suo complesso morì in guerra un ufficiale ogni 37 tra soldati e sotto ufficiali. Nel caso del Veneto il rapporto fu di 1 a 43. Nella regione la borghesia in armi, meglio le due borghesia in armi, quella rappresentata dagli ufficiali di carriera e quella costituita dagli ufficiali di complemento della territoriale, continuarono anche durante il conflitto a recitare quel ruolo di secondo piano che avevano ricoperto negli anni di pace. Lui con la grande guerra furono tenuti alle armi, questa è la formula ufficiale, dal reggio esercito poco o meno di 600 mila venditi, quasi il 12% del totale nazionale. una percentuale destinata a contraste anche se di poco nel caso in cui si facciano entrare nel conto anche i marinai, che paradossalmente, perché penso che Veneto, Venezia, mare eccetera, però il contributo dei Veneti alla marina fu sempre nettamente inferiore all'esercito. Si può supporre che qualora sia stato rispettato a livello regionale il rapporto in vigore sul piano nazionale tra i tenuti alle armi e gli incorporati nell'esercito operante, mezzo milione di Veneti sia stato inviato al fronte. L'indice di mobilitazione calcolato in relazione ai quasi 707 mila maschi appartenenti alle classi di leva della mobilità durante la Grande Guerra, maschi segnalati dal cessimento della popolazione del 1911, fu dell'84%, un tasso di 15 punti superiore alla media nazionale, e tale da collocare il Veneto al terzo posto della graduatoria interregionale. Questo espluato non è motivo di stupore dal momento che una volta esaurita la fase della grande immigrazione, quella degli anni 80 e primi anni 90, il Veneto aveva sempre primeggiato quanto al tasso di militarizzazione, per dire il rapporto tra i giovani in età di leva e quelli effettivamente reclutati, occupando quasi ininterruttamente in età giolitiana la testa della classifica interregionale, potendo contare su fattori dei quali probabilmente il principale fu l'alta statura media delle recrute, di cui non beneficiavano le altre regioni. Tuttavia anche questa eccellenza militare, cioè quel dato dell'84% superiore al 69% medio nazionale, deve essere considerata anche se in parte il frutto di una distorsione statistica, come indica il fatto che se si calcola il tasso di mobilitazione a livello provinciale si imbatte in percentuali quanto mai distante tra esse. Il 60% nel caso della provincia di Venezia, contro rispettivamente gli apparentemente stravaganti 113 e 112% nei casi rispettivamente di Belluno e di Udine. Si spiega tutto questo e questo enorme scatto tra gli indici si spiega con la circostanza che Belluno e Udine è una provincia con un altissimo tasso di emigrazione temporale. Ben 104.000 degli oltre 466.000 italiani ribadriati prima del 25 settembre 1914 appartenevano a queste due province. il loro ritorno a casa fece impennare il numero della popolazione in età militare registrata nel censimento del 1911 e quindi schizzare verso l'alto un tasso di mobilitazione che era calcolato in rapporto ad essa. ma appunto è una distruzione statistica. Riesce di non faccia di infiltrazione anche un altro dato che sembrerebbe anche solleppone a favore dell'eccellenza militare dei Veneti. Mentre nel corso del conflitto l'indice italiano di remitenza salì dal 10,3 degli iscritti appartenenti alle classi 1894 e 1895 all'11,7 degli iscritti appartenenti alle classi 1896 e 1899 la Regione si segnalò per una contrazione di questo tasso di remitenza dal 7,1 al 6,3. Non si è tuttavia in grado di stabilire se l'allargamento della fombice tra la percentuale nazionale e quella regionale debba essere messa in conto principalmente le peculiarità e i diversi ritmi dei fenomeni migratori, cioè una correlazione di lungo periodo tra emigrazione e remitenza. La seconda non è la motivazione della prima, sia ben chiaro, è la conseguenza che essendo emigrati si diventava remitenza, ma non si emigrava per fuggire la leva militare. Dicevo, se il problema è legato appunto alla peculiarità dei diversi ritmi di fenomeni migratori o se piuttosto rifletta in qualche misura una maggiore adesione o quantomeno una più diffusa rassegnazione dei veneti nei confronti della guerra. Se poi si considerano da una parte le condanne per diserzione inflite dai tribunali militari dell'esercito operante e il numero dei prigionieri e dall'altra le medaglie e le croci di guerra e il valore militare distribuite nel posto del conflitto, troviamo che il Veneto si distinse contraddittoriamente su questi due fronti, su entrambi i fronti. In particolare il numero dei prigionieri fu particolarmente elevato nelle province di Udine e di Belluno le quali peraltro si distissero anche per il numero delle recompense al valore. Ne furono concesse 3,7, il conflitto del valore sono appunto medaglie, oro, argento, bronzo, le croci di guerra al valore militare. Ne furono concesse 3,7 ogni cento arrollati ai biellunesi e 2,9 ai friolani, mentre le province di Padua e di Rovio ne erano soltanto 1,5, sempre su cento arrollati. A favore delle province di confine contò principalmente il fatto che appartenessero all'area di reclutamento del corpo degli alpini, il corpo maggiormente premiato durante la guerra. 4,2 decorazioni ogni cento alpini contro ad esempio le 2,6 concesse alla fanteria generica, esclusi appunto dal pini, i bersaglieri, l'aviazione eccetera. Volendo approdare una conclusione, si può affermare che sia perché impiegati su fronti in situazioni obiettivamente più difficili e pericolose, non a caso il rapporto tra i morti in guerra e il numero dei arrollati fu del 13,1% nel caso della provincia di Belluno contro l'8% per quella di Rovio, sia perché inquadrati in quella sorta di nazione armata di frontiera che era il corpo degli alpini e quindi maggiormente motivati e disposti in sacrifici, i beni delle zone alpine e pedemontane riuscirono a testimoniare il loro valore in maniera tale da consentire alla regione nel suo complesso di annullare o quasi sul fronte delle ricompense al valore l'endica rappresentato dal suo modesto contributo al corpo ufficiale dell'esercito. Endica perché, come è ovvio, in tutti gli eserciti, gli ufficiali erano privilegiati nel momento della distribuzione delle medaglie rispetto ai comuni soldati della truppa. Nello stesso tempo i dati relativi ai disertori e ai prigionieri sembrano indicare che proprio nelle aree del Veneto maggiormente esposte, sia in quanto territorio sia in quanto popolazione al conflitto, si registrava una forte divaricazione dei comportamenti, una contrapposizione tra chi accettava o subiva fino in fondo la guerra e chi era pronto a approfittare delle circostanze per tornarsene a casa oppure consegnasse il nemico. Le linee di divisione all'interno della regione non contrapposero soltanto le province di frontiera a quelle dell'interno, ma anche all'interno delle province stesse, i capoluoghi e i rimanenti comuni. Ad esempio il tasso medio di mortalità, calcolato in riferimento ai maschi in età militare, risulta del 5,5% per Venezia e del 12,3% per il resto della provincia, del 6,1% per Treviso e del 9,7% per il Trevisiano, del 6% per Padova e dell'8,3% per il Padovano. La guerra colpì soprattutto le campagne, nel Veneto come nel resto d'Italia, e misura assai minore il settore manifatturiero, mentre risparmiò relativamente alle città e all'interno di queste ultime le componenti meno legate all'economia tradizionale e soprattutto le fasce sociali più ambiente. L'inutile strage fu senza dubbio una strage spaventosa, ma almeno per l'economia non fu affatto inutile nella misura in cui accelerò il processo di modernizzazione. Grazie. Grazie professor Negro per una relazione ricchissima di dati e per i suggerimenti a ricerche e a un'interpretazione diversa della storia del Veneto. Molti aspetti non erano a me conosciuti che penso anche ad altri e le sue osservazioni sugli aspetti strutturali di questa regione in guerra, sulle linee di difesa, su questo Veneto periferia così, come ricordavi, poco velocemente integrata al sistema militare italiano, consentono soltanto un ripensamento della storia del Veneto della storia del Veneto, ma nella storia dell'Italia intera in quel periodo. Adesso il professor Zalin ci propone come dire l'altra faccia della medaglia, l'altro aspetto. tra la società e l'economia veneta negli anni del conflitto e del primo dopoguerra. Diciamo subito che dovremmo parlare dell'economia e della società e io ho un un po' un punto di partenza che forse è un po' meno negativo di quello che ci dice il collega. Allora, per svolgere questa relazione, cioè che secondo me è anche impegnativa perché riguarda tutta la società, io ho bisogno di partire dalle posizioni anteriori alla guerra. E lo farò seguendo gli appunti della prima scheda, cioè parlando degli indici positivi nel Veneto grande, come spesso io lo chiamo, è il Veneto delle otto province, dal resto fino al 45, la provincia di Udile. Non era chiamata Friuli, più spesso nelle carte, ma provincia di Udile. di Udile. Allora, quali sono questi indici positivi? Io riscontro sulla base della bibliografia e di quanto anche mi rende, diremmo, partecipe attraverso la documentazione di Fondolzatti. Inizio, innanzitutto si deve riscontrare l'espansione della cosiddetta superficie agricolo-forestale, che, insomma, per l'Italia tutta è, diremmo, è, insomma, deficitaria per il 9%, per il Veneto, invece, la superficie non utilizzabile è giunta, nonostante le montagne, è giunta al 6%. Ci sono poi degli altri indici positivi che riguardano la demografia. Oramai la Regione si avvia ad avere una consistenza demografica di circa 145-148 abitanti per km2, superiori alla media, alla media nazionale, ma soprattutto a portarsi ai livelli, diremmo, delle regioni più ricche è l'agricoltura, non tanto l'industria. Per esempio, ci sono dei settori nell'ambito delle cosiddette produzioni primarie come i cereali, frumento, frumento principi dei cereali, ma soprattutto il mais. Nel mais, ad esempio, occupiamo il primo posto. Nel frumento siamo al secondo posto. Non so, per quanto riguarda il riso siamo al terzo posto e per i bozzoli, viceversa, con i suoi 10 milioni di chilogrammi prodotti, certamente veniamo dopo la Lombardia, ma difficilmente troviamo un'altra regione che offra questa abbondanza di materia prima. da quanto riguarda l'industria, faccio alcuni cenni, e ovviamente i punti di forza, come è spesso da tutti, anche da me, ma da me, in sostanza, i punti di forza sono il Vicentino, si capisce Venezia, Venezia la metterei al primo posto, e Vicenza il secondo, però voglio qui parlare, dal momento che la guerra si è abbattuta soprattutto sul confine orientale, e Caporetto riguarda certo Friuli, Berlunese e in parte Tredigiano, e cioè è andata perduta tutta quella parte, diremmo, che aveva fatto forse i progressi maggiori, insomma il Friuli ha, diremmo, delle grandi affermazioni nelle formaci, nella creazione dell'industria elettrica, nei cementifici, nelle ferriere, facendo una relazione sulla valle d'Aosta, mi sono trovato di fronte alle ferriere di Udine che avevano acquisito delle partecipazioni, cosa che non sapevo, e quindi, inutile sottolinearlo, i cotonifici, il Friuli possiede 6-7 cotonifici di recente impianto, in cui è vero che c'è un contributo di capitali e di conseguenza di personalità, cito dei nomi, Amman e Webfer, sono stranieri, e addirittura i fratelli Belazza e gli svizzeri Rivail sono stati i primi a impiantare i cotonifici, ma insomma i cotonifici sono cresciuti proprio tra 800 e 900. Ecco, è una regione che alla vigilia della guerra si può definire tra le più prospere d'Italia, in questo senso i miei dati, caro del negro, sono meno negativi dei tuoi, va bene, e soprattutto accentuerei l'attenzione sui grandi progressi che ha fatto l'agricoltura. L'agricoltura veneta non è stata studiata a fondo, va bene, ma certamente gli indici che gli annuari statistici ci danno vedono, come dicevo prima ricapitolo, vedono sia nel campo della dotazione del bestiame, sia nel campo delle grandi produzioni primarie, sia nel campo dell'orticoltura, per esempio, ci sono citatissimi gli ordini di Chioggia, insomma ci sono delle sezioni agricole non sufficientemente indagate che rendono questa regione ai primi posti nella graduatoria nazionale. Ecco, la guerra interrompe questo naturale e considerevole progresso. Insomma, anche queste sono cose notte, lo abbiamo già avuto un dato sullo spollamento dall'altipiano già nel 16, i miei dati peraltro sono addirittura più catastrofici, perciò arriviamo non a 40.000 come numero di profughi, ma addirittura tra 80 e più. Tra l'altro io ho una testimonianza familiare perché anche la famiglia di mia madre, che erano di Carrè, viene fatta sloggiare da questo territorio e trovano accoglienza a Gran Torto, cioè un paese del Padovano. 12 componenti. Certamente poi c'è la grande rotta che tutti conosciamo, in definitiva i danni che riguardano l'agricoltura e tutta la struttura economica sono stati ingenti. E sintetizzandogli, sono stati ingenti perché abbiamo perso almeno la metà del territorio, sono stati ingenti perché le braccia, per questo riguarda tutta la nazione e la forza animale in particolare, perché nel Veneto si combatteva, insomma perciò era facile anche requisire bestiame e quindi anche per la scarsità di concime perché tutta l'industria chimica era impegnata in altre sezioni. Nel campo industriale è anche il caso di sottolineare la perdita di tutte le grandi centrali e i macchinari annessi che in molti casi sono stati trasferiti in età di occupazione addirittura all'interno dell'Austria. Qual è la situazione che si presenta al momento in cui i primi profughi al seguito dei militari oppure al seguito servendosi di sentieri e perché fino a che non è stato ultimato lo sminamento era anche impossibile, c'era il divieto da parte degli abitanti di arrivare nelle zone dove si era combattuto. Insomma io voglio citarvi, è l'unico brano che leggo, e voglio citarvi da un diario che ho avuto modo di vedere, diario che è tuttora inedito, di un certo Curzio Milesi, un combattente, credo che fosse un sergente. Una delle zone più crudelmente provate fu l'altipiano di Asiago, non dico niente di nuovo ovviamente, dove si sferrò, dice Milesi, fin dai primi tempi della guerra la furia del nemico con bombardamenti e con l'invasione. Egli fu testimonio, per esempio, fu testimone dell'incendio provocato in Asiago e lui era in linea in quel momento. La distruzione fu quasi completa, dove erano boschi stupendi, orgoglio e ricchezza di quella praga, non rimaneva che una distesa calva ed esolata. Mari che sparse per l'altipiano distrutte e i fiorenti comuni di Asiago, Gallio, Fozza, Trescheconta, Roana, non saranno più che cumuli di ruine. Se noi andiamo in un'altra zona di guerra, nel Basso Piave, la zona Adriatica, noi troviamo delle distruzioni, più che in riguardo al patrimonio edilizio, per il patrimonio territoriale, per le campagne. E troviamo, per esempio, che su 90-92 mila abitanti di 17 comuni nella zona del Basso Piave, 30 mila, secondo i medici, 32 mila, veramente facciamo un po' di tara, erano stati, erano punti, avevano la malaria, erano stati punti dalla malaria. Però la presenza della notte e di conseguenza della malaria si verifica anche in altre zone del Veneto, anche nell'Occidente e Veneto. Per quale motivo? Perché a causa degli sforzi imposti dalla guerra, i macchinari delle idromole e la stessa azione di bonifica operata in locco dall'uomo era stata interrotta. Sicché noi abbiamo il ritorno della malaria nello zerpano, tra i 6 e gli 8 mila ettari, e soprattutto in quel vasto, va bene, comprensorio che erano le valli grandi, veronesi e ostidiesi, le troviamo nella carta, che arrivano a sfiorare i 30 mila ettari. Anche qua troviamo la malaria. Allora, parliamo adesso, oltrepassando questi dati negativi, che sono certamente notevoli, non scoprono l'acqua calda, vediamo i piani di rinascita. I piani di rinascita nelle zone disastrate sono stati compiuti da diversi enti. Beh, innanzitutto l'esercito ha cominciato subito a rimettere i ponti sui grandi fiumi, perciò sul piave, sul tagliamento, in definitiva erano tutti questi ponti abbattuti, oppure ci si servivano i ponti di barche. L'esercito e successivamente ingegno, sia militare che civile, cominciano a creare le infrastrutture. Era tutto distrutto. Nel Veneto, oltre il piave, vi era una distruzione immane. Allora, i punti da sottolineare, anche per quanto offre l'archivio Luzzatti, va bene, sono la presenza, accanto all'esercito e al genio, del ministero, il cosiddetto ministero Veneto, cioè il ministero per le terre liberate e redente anche. Questa è la dizione giusta. Allora, questi evidentemente attraverso dei comitati, attraverso dei loro esperti, danno un grande impulso alla ricostruzione. Qual è il mezzo con cui noi cominciamo a ricostruire e lo abbiamo fatto sostanzialmente in un paio di anni? Sono le cooperative. Le cooperative sorgono come funghi e c'è uno strumento che va sottolineato. i finanziamenti per la disoccupazione. Tutte le cooperative sono piene di disoccupati, acquisiscono i fondi, soprattutto in base alla legge che consente l'erogazione dei fondi per la disoccupazione. E in definitiva quali erano le stime sui danni che hanno colpito l'edilizio urbano, l'edilizio dei paesi, diciamo, città e paesi. E lasciamo stare le campagne perché anche nelle campagne, va bene, si era combattuto, i territori agricoli erano intrisi di trincee reticolati, ma soprattutto di armi e bombe che potevano esplodere, come di fatto si è verificato in centinaia, se non migliaia di casi. Allora diciamo che le stime vertevano su un patrimonio andato perduto di circa 80.000 case. 80.000 case erano da riassestare e da ricostruire. Questo è stato possibile attraverso l'afflusso il coagulo delle cooperative che non sono quelle che sono sorte nel Veneto. Da tutta l'Italia accorrevano nel Veneto uomini che servendosi appunto degli anticipi dati dallo Stato per combattere la disoccupazione, in definitiva hanno fatto diventare le zone disastrate del Veneto un autentico e immenso cantiere. Questo certamente è un dato positivo. E io voglio sottolineare, la documentazione è immensa, chi ha la pazienza di vedere le carte depositate nel fondo Luzzatti per l'alto commissariato per i profughi, insomma si rende conto che si tratta di un materiale abbondantissimo e sarebbe possibile fare dei volumi perché chi aveva un qualsiasi problema, il problema scriveva a Luzzatti elencando la situazione. E va bene, ci sono dei casi umani incredibili, insomma. Ecco, io naturalmente ho visto qualche cosa e non posso anticiparvi, va bene, se non in minima parte quello che ho visto. In ogni modo voglio almeno analizzare, sempre in connessione con i problemi che nascono dalla ricostruzione, due temi. Il bestiame. Voi direte il bestiame. Ma il bestiame è andato in gran parte per tutto. Anche qui io ho una testimonianza familiare a cui non prestavo fede, ma che invece mi viene confermata da quello che vedo nelle fonti. Cioè il bestiame aveva due prezzi. Quello che era disperso al di là la piave e quello al di là la piave. Allora ci sono mediatori e vari individui che riuscivano a crearsi una organizzazione loro, i quali compravano il bestiame a vilissimo prezzo oltre il piave e lo facevano trasferire. Non naturalmente durante il mese di ottobre e novembre, ma successivamente. E lo facevano trasferire lucrando. La testimonianza mi viene da mio padre. Guardi, su questo episodio ogni tanto ci ritornava sopra. Credo che anche lui in qualche misura qualcosa abbia fatto. Allora, i calcoli sul bestiame perduto o addirittura morto di fame, perché insomma a un certo punto nessuno vadava più al bestiame nelle zone in base. E sono abbastanza approssimativi. Però si parla di 350.000 capi di bestiame andato perduto. Allora, quando nel 19 la gente comincia a ritornare, va bene, ha il problema di seminare le terre. E i tecnici del ministero per le terre liberali. Guardate che per poter fare dei piani di colonizzazione un'altra volta, bisogna che noi riusciamo ad avere almeno 70.000 capi di bestiame. Chi è che risolve il problema del bestiame nel Veneto? Non l'Italia. Lo risolvono la Germania e in misura minore l'Ungheria, l'Ungheria per i cavallini. Ci sono nell'ambito della documentazione del ministero per le terre liberate, delle pratiche che consentono di ricostruire, di delineare come è stato fatto e soprattutto i protagonisti. C'è ad esempio un certo ingegnere, Giovanni Battista Chiossi, che è il responsabile dei servizi italiani per le restituzioni. Questo stabilisce il suo quartier generale nell'Asia, a Wiesbaden, e attraverso una sua organizzazione di incaricati che scorrevano le campagne tedesche e anche quelle ungheresi, radunavano questo bestiame, abbiamo anche le razze che sono confacenti ai bisogni delle campagne venete, che sono l'Algau, la Francoria, la Pizzergau, la Simmental. Ebbene, questo bestiame veniva radunato, veniva condensato a Rosenheim, che è una città a ridosso dell'attuale confine austriaco. E sapete chi a Rosenheim ha potuto sostare? Il grande, insomma, il nostro poeta Carlo Emilio Garda passa buona parte della sua prigionia a Rosenheim. Naturalmente io mi ricordavo queste cose e leggendo per diletto il diario di guerra, il diario, diremmo, dei fatti di Caporetto e successive di Gabba, ho potuto vedere, parla in maniera diffusa di Rosenheim. Va bene, a Rosenheim c'era la ditta Gautieri, certamente non è veneta, questa immagazzinava, convogliava sui vagoni ferroviari il bestiame e il punto di approdo in Italia era la stazione di Vicenza. E da Vicenza, a seconda di quello che chiedevano i consorzi, il bestiame veniva restituito nel Veneto. Allora, ho voluto dirlo perché raramente si trova un materiale di questo genere. L'altro fatto su cui vi soffermo è un fatto che è legato, certamente, alla genialità e alla competenza bancaria di Luigi Ruzzatti. Voi sapete che Luigi Ruzzatti, tutti sapete che è il divulgatore massimo delle banche popolari, sul modello tedesco, sul cedilizzo, però queste banche popolari sono sorte come funghi in tutta l'Italia, non solo nel Veneto. Ebbene, già subito dopo la rotta di Caporetto, Luzzatti si fa promotore, non solo di una deliberazione presa dal nostro Parlamento che sancisse il diritto dei profughi a essere, diremo, a essere, come dire, insomma, a ottenere per i danni ricevuti il loro necessario strumento. Ebbene, passa questo diritto, ovviamente la Francia fa lo stesso, va bene, e Luzzatti è tra i promotori di questa importante legge. Però, dal punto di vista pratico, Luzzatti comprende che non sarebbe stato opportuno affidare alla burocrazia le pratiche di rimborso dei danni. Allora, dice Luzzatti, fatto salvo il principio che ogni danneggiato deve inoltrare domanda alle intendenze di finanza specificando la località e tutti i dati relativi al danno subito, premesso questo, Luzzatti dice, fino a una certa somma, che ci sia un ente bancario che effettua l'anticipo, l'anticipo sul danno ricevuto. E questo ente è il famoso istituto federale di credito per il risorgimento della Venezia. Poi la parola risorgimento è caduta, ma dobbiamo arrivare negli anni 30, 30 e 40, e questo ente avrà sede a Venezia e arriverà praticamente fin quasi ai nostri giorni. E questo è lo strumento ideato da Luzzatti. Naturalmente, le relazioni che aveva Luzzatti con il sistema delle banche, non solo come popolari, era tale che una ottantina di banche nel Veneto hanno immediatamente sostenuto l'iniziativa operando quote di questo nuovo ente e in definitiva in poche settimane l'istituto federale di credito è in grado di operare sulla base di un capitale raggiunto di circa 50 milioni. Però a sua volta il tesoro aveva dato una elargizione immediata di 200 milioni. E ogni mese il tesoro anticipava per i bisogni dell'istituto circa 50 milioni ogni mese. In definitiva sono 600 milioni all'anno. Sulla base di queste cifre, i danneggiati che avessero presentato richiesta sono stati, diremmo, soddisfatti. Questa è stata una delle tecniche che ha consentito, va bene, nello spazio di un paio di anni la rinascita, la vera e propria rinascita di tutte le terre, va bene, che in qualche misura afferivano a queste cinque province, alcune marginali, ma certamente la provincia di Treviso, la provincia di Belluno e quella di Udile, va bene, erano tra le maggiori danneggiate. Naturalmente noi possediamo qui nelle carte dell'istituto tutte le operazioni. Adesso io non ho il tempo, diremmo, però non solo sono stati restituiti i soldi ai milioni, si può dire, certamente alle centinaia di migliaia di piccoli proprietari che avevano perduto la loro abitazione, ma sono state rimborsate anche le imprese. Adesso per dire, vi do alcuni nomi, ma sono centinaia, vi leggo alcuni nomi di coloro che hanno percepito un milione di indennizi da parte dell'istituto federale di credito. Per esempio, la segheria Bortolo Lazaris di Perarolo, il mobilificio Francesco Chiamulera di Lozzo Bellunese, la anonima litoranea di elettricità di San Donato di Piave, il cotonificio veneziano che si era appropriato di uno dei grandi cotonifici di Torre a seguito di operazioni avvenute ancora nell'antreguerra. Ebbene, c'è il cotonificio veneziano, lo iutificio di San Donato, gli stabilimenti Chiamman, questo è il cotonificio, la cartiera Rossi di Arsiero, perché dall'altipiano al Siero che sta in basso, ebbene, gli austriati riuscivano a colpire anche la cartiera di Siero che ha avuto grossi danni. Le fornaci Chiavai, Urbanis, Banelli di Gorizia, la filatura Macco. Naturalmente, quali sono state le imprese che hanno avuto il massimo dei compensi dall'istituto? La Sade e la Cerdina, che hanno rispettivamente 4 e 5 milioni di anticipi. Va bene, dico la cifra finale, fino al 31 dicembre del 1921 l'istituto federale è riuscito ad anticipare in conto danni ben 1 miliardo e 200 milioni di euro. E sono con questi soldi che è stato possibile, va bene, far riprendere al Veneto la sua connotazione, diremmo come noi la conosciamo. Abbiamo anche, a opera dell'istituto Veneto, ne accendo brevemente, altre iniziative che poi andranno avanti negli anni. Quale a dire? L'ente di rinascita agraria per le province di Venezia e Treviso, che poi sarà il famoso Tre Venezie, e l'istituto di economia montana di Colmezzo. Anche queste sono iniziative messe in atto dall'istituto federale, allora diretto da Max Rava, che è uno delle entourage, diremmo, di Luigi Ruzzatti. adesso permettetemi di illustrare e di leggervi, e ho finito, e ho finito, va bene, l'intervista che è apparsa in una settimana, in una, non so se è settimanale, no, deve essere addirittura un giornale greco. C'è una delegazione che arriva in Italia per conoscere l'entità dei danni, suppongo che sia questa, dell'anno 1921, perché si parla di Ruzzatti che è attuagenario, va bene, l'onorevole Ruzzatti, con voce tonante e la lucidità di mente sorprendente per un uomo ottuagenario, ci ramettò i disastri e le peripezie delle terre invase dagli autriati. questo dice questo giornalista, va bene, che è inutile che gli dica il nome perché è anche abbastanza strano e non so se sia esatto, però Ruzzatti invita questo giornalista assieme ad altri giornalisti a fare una scampagnata, come dice lui, nelle terre, insomma una visita di lavoro, nelle terre e nell'antipiano e della provincia di Belluno e di Udine per vedere come è andata avanti la rinascita, va bene, delle terre, delle contrade disastrate. Allora, al suo ritorno da Trieste, continua questo corrispondente greco, incontrammo a Venezia, vi leggo, perché sono ritornati, sono arrivati a Venezia, incontrammo a Venezia del ministro delle terre liberate, onorevole Raineri, e gli volle chiedere le nostre impressioni dalla gita e noi gli esprimiamo insieme alle nostre congratulazioni anche la nostra ammirazione. A me più specialmente chiese, se la sorella, Raineri ha il corrispondente, ha il giornalista greco, se la sorella greca avrebbe da imparare qualche cosa da ciò che i greci vedono in Italia, gli risposi, è il corrispondente greco che risponde a Raineri, ripeto, ciò che dico anche a voi e che vorrei fosse preso in seria considerazione dalle nostre autorità competenti e cioè per la ricostruzione di San Onicco sarebbe bene applicare i metodi della ricostruzione del Veneto. Per la lotta contro la malaria e il dissecamento degli stagni in Grecia sarebbe utile studiare il sistema meraviglioso delle bonifiche della vallata del Piave, mercè il quale le paludi più pericolose vengono trasformate in terreni fertilissimi. Per il trasporto d'acqua nelle città greche sarebbe bene studiare i lavori idraulici sul Piave, le cui acque vengono immagazzinate durante l'inverno nel lago di Santa Colosse e così ne è sempre disponibile una quantità importante per l'estate. Insomma si va avanti, questo è uno dei tanti documenti che ho potuto vedere, ma in definitiva questa rinascita che certamente è fatta oramai, è nel punto d'arrivo, certamente nel corso del 1922, questa rinascita è stata resa possibile, a mio avviso, da due eventi, sotto il profilo finanziario, dal sostegno che ha dato l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle venezie e poi dalla formula delle cooperative di lavoro che nello spazio di un diennio hanno costruito un minimo di 40-50 mila case nei paesi dissestanti. E con queste osservazioni ho finito. Grazie mille, grazie mille. Ha cominciato a farlo il professor Filibert Agostini che doveva tenere stamani la sua relazione ma per gravi motivi familiari non può essere presente, leggeremo la sua ricerca negli altri all'inizio dell'anno prossimo. Adesso come ho detto all'inizio, una pausa, 10 minuti, un caffè nella sala accanto e poi riprenderemo i lavori con la relazione della professoressa Capuzzo. Grazie.